Biden firma la legge che mette fine all'emergenza Covid. Tutte le norme cesseranno a partire dall'11 maggio. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che pone immediatamente fine all'emergenza nazionale Covid-19, emanata per la prima volta durante l'amministrazione Trump nel 2020. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Come riportano i media statunitensi, la firma del provvedimento comporta anche la decadenza del cosiddetto titolo 42, che consentiva il respingimento immediato dei migranti irregolari al confine con il Messico sulla base di rischi di natura sanitaria. La notizia per il momento è solo per il momento. Termina qui. Se non lo avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.